Quando si tratta di andare in un fast food, le opzioni sono semplici, McDonald's o Burger King. Questi due fast food sono da sempre conosciuti come rivali, che cercano di superarsi a vicenda, che si tratti dei loro annunci pubblicitari che non esitano a far sapere al loro pubblico perché sono migliori dell'altro, o del lancio di menu simili. Chi è che non ha mai visto un annuncio di Burger King o McDonald's che affronta in modo scherzoso la rivalità tra i due? Quindi, com'è nata questa guerra? Chi ha acceso il fuoco? Chi è nato prima, il Big Mac o il Whopper? Mettiti comodo che oggi ti racconto la storia della guerra del burger, tra McDonald's e Burger King. Ciao, io sono Simone e questo è Business Lab. Prima di iniziare con il video vedo che ancora non sei iscritto al canale. Se ti piacciono i nostri contenuti, iscriviti al canale così da supportare la realizzazione di video sempre di maggiore qualità. Per te non cambia nulla, ma per noi fa una grande differenza. Ora, torniamo al video. Il primo ristorante McDonald's è stato inaugurato negli anni 40 dai fratelli Maurice, conosciuti anche come Mac e Richard McDonald's a San Bernardino in California. Inizialmente è nato come un drive-in, poi si è trasformato in un ristorante che serviva a pasti semplici, con porzioni molto grandi a prezzi molto bassi. Un sistema che chiamavano Speedy Service System e che includeva anche un banco self-service. Offrivano hamburger, patatine fritte, bevande e torte. Come avrete intuito, McDonald's è stato un grande successo, perché le persone potevano ottenere i loro ordini velocemente. Tuttavia, il McDonald's che conosciamo oggi è stato avviato molto tempo più tardi, quando l'imprenditore Ray Kroc si rese conto che questo concetto di fast food aveva un grande potenziale di successo e decise di unirsi all'azienda come agente di franchising nel 1955, per poi acquistarla dai fratelli. Il sistema di franchising McDonald's, successivamente è noto come McDonald's Corporation, è stato avviato per la prima volta in Illinois e successivamente si è espanso a livello globale. Anche il logo con cui tutti noi riconosciamo McDonald's ha iniziato a diventare popolare solo in quel periodo. D'altra parte, Burger King è stato fondato nel 1953, con il nome di Instant Burger King, in Florida. Ha affrontato diversi problemi finanziari, fino a quando David Edgerson e James McLemore hanno acquistato l'azienda nel 1959 e da allora è nato Burger King. Mentre McDonald's continuava a crescere negli anni 60 e faceva pubblicità utilizzando la loro mascotte Ronald McDonald, come immagine chiave, che inizialmente era uno sponsor televisivo del Bozo Circus. Negli anni 70 erano diventati uno dei maggiori inserzionisti e avevano sponsorizzato diversi eventi, tra cui il Super Bowl e la parata del giorno del ringraziamento di Masi, tutti coronati dall'iconico clown. Quindi, com'è nata la guerra del burger? Man mano che McDonald's diventava sempre più conosciuto, Burger King ha deciso di stabilire la propria identità come competitor principale del già popolare McDonald's. I famosi hamburger Big Mac di McDonald's e i Whopper di Burger King avevano già iniziato la loro battaglia per il titolo di migliore. Tutto è iniziato quando Burger King ha pubblicato un annuncio che prendeva in giro il popolare slogan di McDonald's, che recitava due fette di carne 100% pura, salsa speciale, lattuga, formaggio, cetriolini e cipolla in un panino ai semi di sesamo. In contrasto, Burger King pubblicizzava i loro hamburger con lo slogan Senza cetrioli, senza lattughe, accogliamo ogni richiesta speciale. Tutto quello che chiediamo è che ci lasci servire, prendendo in giro la specificità di McDonald's e la sua riluttanza a personalizzare gli hamburger. Burger King si è quindi concentrato sul loro vantaggio di personalizzare gli hamburger come volevano i loro clienti. Mentre l'annuncio guadagnava popolarità, Burger King ha continuato a rilasciare annunci che evidenziavano la loro evidente rivalità, che molti sostengono essere una strategia di marketing intelligente. Negli anni 70, Burger King ha avuto alcuni successi nel marketing, inclusi alcuni dei loro prodotti più pubblicizzati legati a Star Wars, in cui l'azienda si è associata a Star Wars e ha fornito vari articoli da collezione, come poster, bicchieri e set di adesivi, che raffiguravano scene e personaggi del popolare film. Al contrario, diverse campagne pubblicitarie non sono andate proprio bene. Una di esse includeva una grande campagna, chiamata Where's Herb, che si focalizzava su un personaggio di nome Herb, che non aveva mai mangiato il loro famoso Whopper. Burger King aveva inviato Herb the Nerd in diverse località, e i clienti che lo trovavano potevano vincere fino a 500 dollari. Inoltre, vendevano anche i loro Whopper a 99 centesimi, con il motto Io non sono Herb. Contrariamente alle intenzioni di marketing, la campagna è stata un fallimento clamoroso, con i clienti confusi sul pubblico di riferimento, o sul messaggio che la campagna intendeva trasmettere. Infatti, negli anni 80, registrarono una diminuzione dei profitti del 40%. In quel periodo, l'azienda ha affrontato molti problemi finanziari, che hanno portato anche a molti licenziamenti dei dipendenti di Burger King. Tuttavia, sono riusciti a rimanere rilevanti, nonostante gli ostacoli, in quanto le loro prese di posizione continuavano. McDonald's ha persino intentato una causa legale contro Burger King, citando pubblicità false e ingannevole contro un annuncio che affermava che gli hamburger di McDonald's erano più piccoli del 20% rispetto a quelli di Burger King. Mentre entrambi i fast food hanno continuato con le loro forti strategie pubblicitarie, con McDonald's e suo slogan I'm loving it, che prendeva piede, Burger King aveva nel frattempo rilasciato diversi annunci creativi, che prendevano in giro il primo, come Non mangiare con un clown, mangia con un re. Hanno anche fatto diverse frecciatine dopo l'uscita di un film horror, che voleva far capire al pubblico di non fidarsi mai dei clown, e hanno persino preso in giro lo slogan I'm loving it, come I'm loving it, mettendo in evidenza l'errore grammaticale. Anche McDonald's non fu da meno, con l'annuncio che ha attirato maggiormente l'attenzione, che mostrava un cartello stradale che indicava che il ristorante di McDonald's era a 5 km di distanza, mentre quello di Burger King era a 258 km di distanza, sottolineando che avevano un numero maggiore di punti vendita. Sapete che dopo quasi 6 decenni di rivalità, Wikipedia ha una propria pagina dedicata alla guerra del burger? Sì, la guerra del burger è stata così popolare che è stata associata alle due catene di ristoranti per i loro annunci pubblicitari reciproci, che hanno fatto sempre notizia. Il termine è stato coniato per la prima volta quando Burger King ha cercato di attaccare le dimensioni del burger del loro rivale McDonald's. Come offerta di pace nel 2015, Burger King, come parte di un'altra intelligente strategia di marketing, ha proposto un'offerta a McDonald's in una lettera aperta sul New York Times in occasione della giornata internazionale della pace, il 21 settembre. L'offerta consisteva nel far collaborare i due storici rivali, il Big Mac e il Whopper, in uno solo, il McWhopper, così poi da venderli e i proventi devoluti ad un'organizzazione non profit, chiamata Peace One Day. Anche se McDonald's ha rifiutato l'offerta, la proposta del McWhopper è stata ampiamente apprezzata e ha ottenuto tre trofei al North American Award del 2017. In seguito, nel 2020, in mezzo alla pandemia, Burger King ha conquistato i cuori online, con un annuncio insolito chiedendo al pubblico di acquistare dei loro rivali di McDonald's. Diceva, ordina da McDonald's. Non avremmo mai pensato di chiedertelo, ma i ristoranti che impiegano migliaia di persone hanno davvero bisogno del tuo sostegno in questo momento. È stato davvero un gesto dolce da parte dell'azienda o era solo un'altra delle loro geniali strategie di marketing? Non lo sapremo mai. Quindi, chi pensate abbia vinto nella guerra del burger? Il re o il clown? Beh, se si tratta solo di numeri, McDonald's è sicuramente molto avanti, con oltre 40.000 punti vendita in tutto il mondo e una valutazione di mercato di circa 168 miliardi di dollari, mentre Burger King, con circa 19.000 ristoranti, ha una valutazione di circa 20 miliardi di dollari. Quindi, c'è un vincitore. Tuttavia, anche se McDonald's è noto per avere opzioni meno costose, Internet si schiera a favore di Burger King e ha un'opinione piuttosto popolare sul fatto che preferisca Burger King per la qualità. Non possiamo decidere con certezza chi sia il migliore, ma sappiamo che Burger King è sicuramente il re del marketing che ci fa divertire con la loro rivalità scherzosa. Naturalmente, non possiamo negare che entrambi siano al top del loro gioco, guidando contro diversi concorrenti come Wendy's, giusto per citarne uno. La guerra del burger di certo non finirà tra l'oggi e il domani, ma nel frattempo, diteci la vostra. Voi quale preferite, McDonald's o Burger King? Siamo arrivati alla fine del video e spero che il video ti sia piaciuto. Se così è stato, lascia un like per farcelo sapere e iscriviti per non perderti altri contenuti simili. Questo è Business Lab, il business a portata di click. e iscriviti per non perderti altri contenuti.